Ciao ragazzi, alla fine Greta mi ha convinto, ho comprato una macchina nuova, una macchina ecologica, elettrica, zero emissioni, bisogna fare i bravi, non bisogna più inquinare, quindi ho scelto la mia nuova auto che sto ritirando in questo momento, una Mazda RX-7 del 95. Scherzi a parte, ho cercato questa RX-7 per anni, immaginate ne ho viste tantissime, relativamente tantissime perché ce ne sono poche, e alla fine quando ero deciso a comprare qualcos'altro è saltata fuori questa, una macchina interamente conservata, dell'importatore italiano, uniproprietario, mai modificata e completamente originale in ogni dettaglio, non me la sono fatta scappare, però nel momento in cui l'ho portata a casa, durante il viaggio di ritorno, mi sono accorto che una serie di cose non andavano bene, le boccole delle sospensioni erano ormai logore, gli ammortizzatori erano andati, i freni non ce n'era granché, il motore aveva bisogno di un tagliando, quindi abbiamo cominciato dal motore, abbiamo portato la macchina da Abbasciano che ha fatto tutto il tagliando motore, abbiamo montato tutte le boccole Power Flex nuove per le sospensioni, quattro ammortizzatori coilover di prima scelta, i migliori che sono riuscito a trovare, quattro gomme Yokohama e già devo dire che la macchina è cambiata radicalmente. Però poi a quel punto è successo che la carrozzeria e gli interni erano quelli di una macchina di 25 anni ormai, che fare lasciarla così com'è con tutti quei segnetti, con quelle bottarelle, con tutte quelle sciocchezze che a me non piacevano, per non parlare poi degli interni che erano abbastanza sporchi e logori. Allora mi sono rivolto a uno specialista del car detailing e del restauro, Auto Beauty Farm di Latina, di Guido Guagliumi, in cui lavora Francesco. Ho portato la macchina e abbiamo deciso insieme di fare una serie di lavori, tra cui una riverniciatura completa, perché purtroppo la vernice era andata e per fare una riparazione corretta bisognava procedere da capo. Quindi a questo punto lascio la parola a Guido Guagliumi che ci racconterà come si è lavorato su questa macchina. Buongiorno, sono Guido Guagliumi, titolare dell'Auto Beauty Farm. Come anticipato da Pierluigi, vi abbiamo raccontato un pochettino la sua esperienza dell'acquisto della vettura. In maniera scherzosa ha anche parlato di Greta, ma in verità Greta è quella che le ha portato da noi dicendo guarda che questa macchina pulendola sarà più green. Scherziamo, non è vero. Noi facciamo dei restauri, delle lucidature un po' particolari. Detto questo, sulla Mazda di Pierluigi c'era un problema di portarla a un livello più alto essendo lui stesso una persona che non aveva voglia di avere un'auto usata, ma nello stesso tempo di averla nuova. Abbiamo eseguito molte lavorazioni, tra cui una prima sessione è stata lavata per capire le condizioni reali, capendo che effettivamente la vettura aveva bisogno di una verniciatura, l'abbiamo portata al nostro carrozziere Emanuele Gizzi che ha aiutato in questo progetto e il completamento di questo progetto è stata una persona fondamentale, è stata totalmente riverniciata. Dopodiché il tecnico Francesco ha incominciato a raccontare quello che poteva essere il lavoro finito della vettura, quindi abbiamo proceduto con una lucidatura, una carteggiatura per portare la vettura a un livello molto alto e il risultato credo che si vede e si evince. Grazie. Grazie.